SINYORI LA COSHA NUMERO VENZUNA Ero molto curioso di conoscervi, ho giocato tante volte contro di voi e giocare sempre qui a Roma è stato difficile non solo per la squadra, ma anche per quello che fate voi da fuori e oggi avere il privilegio di essere qui davanti a voi e poter sentire il vostro affetto e calore, mi viene voglia di entrare all'Olimpico con tutti voi sotto la cura. Di Bala Masch, un grande applauso a Paolo Di Bala. Ma non finisce qui, non finisce qui perché devi mettere il timbro, il timbro del romanismo, poi canteremo tutti insieme Roma Roma Roma, però devi mettere il timbro. Dai, non ti dico niente, che ti senti di dire? Daie, Roma, daie! Numero 21, Paolo! Pa-u-lo! Di Bala!